Buonasera, abbiamo il posto giusto, ho messo un pezzo da qualche parte, buo? Foyer... Foyer Internacional... C'è giusto, non? On è giusto? C'è giusto, non? Allora, io sono a Berne! A Berne, io posso parlare in italiano. In italiano è una metaphera che si spiega con le parole. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie.